Ma quello è l'albero più grande che abbia mai visto! Se riesco a buttare giù quell'albero, riuscirò ad abbattere l'intera giungla! Il che parta verso la vittoria! Agganciato! Robococciolo, a tutta velocità! Certo! Cavi! Grazie, Ryder! Ogni volta che un ghepardo imbroglione cerca di abbattere gli alberi, noi siamo a disposizione!